Anziani cercasi per giocare a bocce e stare insieme. L'appello è stato lanciato dai pensionati del circolo Abi, poco distante dalla chiesa del Quello Immacolato di Maria, in via Francesco del Sisi. Da circa 90 siamo rimasti in 20, sottolinea il Presidente, ed ora abbiamo bisogno di nuove forze per poter organizzare tornei di bocce, di carte e anche per garantire più cura e attenzione al nostro giardino. Il circolo è situato in un'area facilmente raggiungibile da chi volesse rispondere all'invito. Un appello indirizzato soprattutto agli anziani rimasti soli che vivono ai margini della società, a volte chiusi in casa e vittime della depressione. Sì, anche perché vogliamo fare pure assieme a loro delle giri, se possibile, gestirci quel campo coni, il campo da calcio, calcetto, speriamo con l'alpelle che stiamo facendo, se si vogliono aggregare alla nostra società, che ben vengono e la gestiamo tutti quanti assieme, perché qua non è che comando il Presidente, ma siamo tutta una famiglia assieme a loro, pure per non isolare la gente anziana che sta qua sopra per stare insieme a loro e divertirci un po'. Quanti ne siete adesso? Attualmente ne siamo 22. 22 no, oltre ne avanti molti di più. No, eravamo 35-40. Purtroppo poi qualcuno manca, qualcuno viene e stiamo cercando di pure giovani. Anzi, se vengono i giovani è ancora meglio perché possono gestirla pure loro assieme a noi, tutto questo spazio che ci hanno dato il Comune. Poi potete giocare più facilmente a bocce. Sì, perché ci manca, quante volte non usciamo neanche a metterci assieme per poter giocarsi. Sì, intanto avete voi adottato, tra virgolette, questo spazio verde, gestite e curati. Sì, noi tagliamo noi, concorriamo tutti noi, l'albero, pur frutta, concorriamo tutti noi assieme a questi altri giovani che sono loro. Appello cade d'estate e lo rivolgiamo anche agli anziani che stanno soli, soprattutto a loro. Certamente, perché anche per farli stare in compagnia, pure loro, queste persone che hanno bisogno di qualcosa, perché possiamo anche aiutarle. Le porte aperte. Le porte aperte su tutto, non abbiamo nessun problema di iscrizione, niente. Abbiamo bisogno solo che il Comune ci dia una mano per il campo e il genere, perché poi non ce la facciamo. Con i pochi soldi che abbiamo con i loro soci non ce la facciamo. Se il Comune, e se una pelle che faccio pure l'istituzione, se ci danno una mano a gestire un po' questo campetto, che ci servono i soldi. Inoltre la scuola diventerà più ampia e competitiva. Noi speriamo che ce la facciamo con le nostre forze, però se ci danno una mano loro, benvenga pure da parte del Comune.